buongiorno a tutti oggi facciamo una torta asfiziosa veloce veloce con pochissime pochissime calorie quello che ci occorre per questa ricetta sono 450 grammi di yogurt greco mezzo bicchiere di cacao amaro un bicchiere bello pieno pieno di fiocchi d'avena 50 grammi di stevia è un uovo procediamo così o dopo aver inserito lo yogurt greco nel frullatore aggiungiamo un uovo intero e tutti gli altri ingredienti la stevia il cacao e i fiocchi d'avena e frulliamo o quando il frullatore procede libero che non intoppa più l'impasto è pronto e vi assicuro che buono da mangiare già così e noi invece cosa facciamo ne facciamo un tortino lo mettiamo allora pre riscaldiamo il forno a 200 gradi e prepariamo una teglia imbrullata e infarinata e versiamo il nostro impasto al suo interno dopo aver aggiunto un cucchiaino di lievito per dolci ora non ci resta che infornare a 180 gradi per 20 25 minuti fate sempre la prova stecchino e eccola qua la nostra torta al cioccolato light adesso ne tagliamo un pezzetto ottimo per la colazione e per la merenda ecco qua la torta la nostra torta al cioccolato light cremosa e buonissima buon appetito a tutti